Hey ciao, sono la pigrizia in persona, benvenuto su questo canale Ciao a tutti, ok no perché poi mi servono per fare di nuovo il rewind del 2018 Ragazzi siamo nel 2018, buon anno a tutti, come iniziate il vostro anno, come l'avete concluso Il mio fortunatamente è finito bene, si è concluso bene il 2017 ed è iniziato bene il 2018 L'unica pecca è che sono proprio pigra, cioè questo 2018 l'ho iniziato davvero in modo molto 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 pigro Se si dite dei rumori tipo... è perché c'è quello spazzino sotto casa che sta spazzando Niente, oggi vi mostro appunto i regali di Natale che ho ricevuto E niente, sarò molto scazzata, molto scialla perché sono pigra, ho iniziato così Anzi, non volevo neanche farlo questo video, ho detto ok parlo, magari mi sblocco, mi aiuto Iniziamo subito con i regali Voglio iniziare parlandovi del regalo che mi ha fatto la mia migliore amica Vi dirò nel frattempo anche cosa io ho regalato a queste persone Alla mia migliore amica ho regalato il mascara di Essence che me l'ha chiesto per dire da novembre Mari, da quando è che mi hai chiesto il mascara di Essence? Fino a novembre, inizio a dicembre Steffi, regalami il mascara di Essence Allora, avevamo iniziato così Tu mi compri dei cioccolatini e tu li compri a me Cioè io ti compro questo, 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 tre tipi di cioccolatini diversi Avevamo detto due barrette di cioccolatella, Milka per Maria Io volevo una confezione di cioccolatini da un chilo Poi abbiamo pensato Facciamo una cosa, tu mi regali il mascara di Essence perché a me serve E io gli ho detto Mari, tu comprami la magliettina rossa col pelo perché l'ho vista e la voglio Solo che non l'abbiamo trovata e quindi ora vi faccio vedere cosa ho ricevuto Perché i cioccolatini praticamente li scambieremo Cioè per la prima volta mi tocca fare una calza della Befana Quindi nel frattempo, siccome l'anno scorso l'ho fatta anche a Francesco la calza Questa non la faccio sia alla mia migliore amica che a Francesco Infatti vi registrerò un video appunto per la calza Insomma come l'ho riempita, quello che ho speso perché sta costando un bel po' Eh 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 ok basta Vi faccio vedere cosa ho ricevuto Questa è nella confezione regalo ormai Non la butto, che tu lo sappia, non la butto Mi ha anche fatto questa stupenda letterina Che non l'apro perché se l'apro insomma vedrete i fatti nostri Quello che c'è scritto sono cose top secret Quindi non vi dirò mai È molto bellina, suona, canta, suona, canta Ok suona, si accende Ed è molto molto bella Quindi grazie Mari Ok vi faccio vedere il regalo perché è giunto il momento Tadam Questa è la magliettina che mi ha regalato Mari Tutta rossa, è un po' leggera Però se mettiamo qualcosa sotto la si può mettere ancora in nuova La volevo mettere a Capodanno Solo che ha fatto un freddo Quindi ho detto ok non la metto La metterò un po' più avanti Pioventi La metterò un po' più avanti Verso marzo, aprile Devo dire Perché lo so che comunque i miei zii mi seguono Che sono rimasta davvero sorpresa Da mia cugina e dai miei zii Perché non mi aspettavo di ricevere da parte loro Dei regalini Un regalino di Natale E quindi li ringrazio già da ora E sono davvero sorpresa E sicuramente hanno visto il mio video Della collezione degli smalti Quindi hanno pensato compiamo degli smalti Stefania visto che ne ha pochi Lei si vuole fare la collezione Quindi grazie Sono davvero sorpresa Sono andata da Kiko Ovviamente dove l'hanno potuto comprare da Kiko E mi hanno regalato Intanto la confezione è davvero troppo bellissima Troppo bellissima si può dire Non la si può dire ragazzi È troppo bella la confezione E la conserverò Quindi anche voi sappiate Io conserverò questa confezione di Kiko E gli smaltini in questione Sono questi due Colori in questione sono Il 161 e il 160 Credo che Appunto il 161 e il 160 Colori molto natalizi Molto belli A me il rosso così piace E questo verde Acqua Blu Comunque questo colore particolare In realtà Non ce l'ho È un colore che mi mancava Quindi grazie davvero Adesso non vedo l'ora di provarli Ovviamente non li provo ora Li proverò più avanti Quindi sì Ok grazie L'ultimo regalo all'interno di questa busta Me l'ha fatto Francesco Ovvero Ho postato la foto su Instagram Perché dico ovvero Ho fatto una letterina Confezionata Che al solito Non vi faccio vedere Si è preso di gelosia Perché lui ha visto Il regalo che mi ha fatto Maria Ha visto questa lettera Solo che quella di Maria Suona proprio La sentita fino all'altra parte del mondo Quella di Francesco È proprio Lo posto credo Si può aprire questo Ecco È scarichissima Che è molto bello Questo Babbo Natale Così Glitterato All'interno Della Della busta regalo Praticamente Francesco mi aveva messo 8 cioccolatini Perché lui la calda Della Befana Lo stronzo Non me la vuole fare Quindi mi ha detto Mi fa Accontennati di questi cioccolatini Perché il regalo mi è costato Ok va bene Già Sono finiti i cioccolatini Per farvi capire Perché ho il ciclo Quindi ciao a tutti E il regalo che mi ha fatto Francesco È questo E lui ultimamente mi ha chiesto Cosa vuoi che ti regali per Natale E visto che Maria Non me l'ha trovata Sta maglietta col pelo Li faccio Amore Comprie una magliettina rossa col pelo Che si usa tantissimo E la voglio già da un anno e mezzo Solo che non l'ho più trovato Ok va bene Mi ha fatto credere Di aver comprato quella In realtà si presenta Con Questo Anello Ero alquanto sorpresa Ma allo stesso tempo Turbata E nervosa Perché dico Io speravo Nella maglietta rossa col pelo Più di qualunque altra cosa Tutti presenti con l'anello Regalo comunque Gradito Apprezzato Anche se non metto Molto anelli È tutta questione di testa Come mi girano oggi Praticamente La taglia è un po' Più grande Infatti non la metterò sempre Anche perché ho sopporto di perderlo Infatti siamo dati Lo stesso giorno La gelleria Questa è la taglia numero 8 Ho messo nel negozio Ho detto Guarda Tenetela una misura più larga Perché la misura Quella più piccola La settima Ecco la settima Non mi entrava Mi fa Alla fine Tanto poi D'estate gonfia la mano Quindi tranquilla Meglio che sta così Perché è buono È in argento E Francesco mi ha detto Che è questo All'interno È un solitario Io non so se si vede Ultimo regalo Che non vedrete qui Me l'ha fatto la mamma di Francesco Che cos'è? È andata praticamente da OBS E mi ha regalato Uno scaldacollo Mi stavo dimenticando Del pezzo forte Praticamente ho ricevuto Anche il giorno di Natale Vieni amore mio Bravo Non fare No 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 Non fare danni però Anche il giorno di Natale Praticamente Ho ricevuto Aspetta Dai Se non mi picchia Non è contento Anche il giorno Di Natale Ho ricevuto Una collaborazione No amore mio Non so dire Ti prego Due minuti Ho finito Te lo giuro Di coccolo Ti spupazzo tutto Ho ricevuto dall'azienda Appunto Equilibrium Cosmesi Naturale Questi tre prodottini Una è un crema viso uomo L'odore è fantastico Credo che siano fatte tutte Con l'estratto di Bava di lumaca L'odore è fantastico Provate se Francesco A vedere l'effetto E poi Sto amando Che cos'è questa? Perché me ne ha detto Così poco È fantastica È una crema viso Per pelli Acneiche Ragazze Il profumo È fantastico Ve l'ho scritto Anche su Instagram Ma la pelle Come la rende Fantastica Davvero Liscissima Morbida Non la rende Insomma Grasse Perché appunto Chi ha l'acne E perché ha la pelle Molto grassa Come la mia In questo caso E poi c'è l'ultima Che ancora non ho provato È del latte detergente Quindi ancora Non so dirvi Neanche l'odore Perché vedete Qui è sigillata E la proverò più avanti Perché non mi sono davvero truccata Quindi la proverò stasera E niente Quindi anche questi Hanno contribuito Insomma A far parte Dei regali di Natale Io vi mando Un grosso bacio Stavolta veramente E ci vediamo Alla prossima settimana Con un nuovo video Ciao